Aveva creato un'attività commerciale via internet regolarmente registrata. Vendeva telefonini, accessori, materiale informatico ed elettronico. Ai clienti interessati forniva il nome, un IBAN sul quale versare la somma per l'acquisto del prodotto selezionato e un numero di telefono. Insomma, l'acquisto sembrava sicuro. Peccato però che a transazione avvenuta il nome risultasse falso e al numero di telefono indicato il furbo esperto del web risultasse irreperibile. L'affare è super vantaggioso per l'uomo, non è durato però a lungo. Grazie alla denuncia di una delle tante vittime che aveva pagato 550 euro per un iPhone 5 ma non aveva mai ricevuto il telefonino, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Taormina hanno avviato le indagini e sono riusciti a identificare e denunziare il truffatore che nel giro di pochi mesi aveva realizzato un vero e proprio business. Attraverso il codice IBAN fornito i poliziotti hanno scoperto che l'uomo tra il 25 febbraio e il 25 marzo scorsi, in un solo mese, aveva incassato bonifici per 50.000 euro. In nove casi, tra quelli verificati, i clienti non avevano ricevuto i prodotti acquistati e avevano fatto quindi denuncia presso le forze dell'ordine. L'uomo è stato denunziato all'autorità giudiziaria per il reato di truffa.